ho ricevuto da poco dei modelli della we knife cinese sto andando a vedere come sono questo è il 703 di lama satirata in d2 arriva uno scatolo di cartone di anche discreta fattura all'interno abbiamo una puccia in nylon bella una bella puccia un po economica ma graziosa se fate conto che ormai su un coltello ce l'abbiamo all'interno abbiamo il coltello un chiave per lo smontaggio una piccola puccia per la pulizia e il documento del modello andiamo a vedere il coltello il coltello è un coltello di grandi dimensioni 8,5 pollici di lunghezza massima ha delle guancette in g10 in questo caso desert e dei liner incassati in acciaio spaziatore in g10 è una clip reversibile cioè ambi destra ma non reversibile il coltello è un flipper apre abbastanza velocemente la lama è da 4 pollici lo spessore circa 3 mm ha una leggera zigrinatura nella parte superiore ma è proprio minima si sente appena il coltello sembra ben fatto vedo i liner all'interno sono di colore nero in questo caso il sistema di blocco è liner lock aggancia proprio il tallone della lama appena ma sembra abbastanza resistente il coltello è una bella forma si impugna abbastanza bene la manicatura è abbastanza ergonomica un ottimo coltello da utilizzare per piccole uscite come dc forse un po grande ma per chi piace anche un modello da dc l'acciaio utilizzato è il d2 non ci sono scritte sulla lama una cosa positiva l'unica scritta è questo wii che troviamo sul sul pivò produzione cinese ma devo dire molto molto ben fatta viviamo qui viviamo qui anche c l'abbiamo un